Si è riunita all'Aquila oggi l'unità di crisi per definire i piani di accoglienza della popolazione in fuga dall'Ucraina per la guerra ma anche i piani sanitari, riunione coordinata dal Presidente della Regione Marco Marsilio che è anche commissario di governo per questa emergenza, riunione terminata pochi istanti fa Siamo in diretta con la Sala Operativa della Protezione Civile, con la nostra Daniela Rosone e anche con il Presidente Marsilio Buon pomeriggio Buon pomeriggio direttore, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Rete 8 è vero è terminata da qualche minuto questa riunione, possiamo dire il primo tavolo operativo vero e proprio per discutere di cose concrete sia la parte sanitaria che di sicurezza che accoglienza relativamente all'emergenza in Ucraina l'Abruzzo è pronto, ovviamente ci sono cose da limare, una riunione che è iniziata alle 12.30 e che è terminata come dicevamo da pochi minuti con noi però c'è il Presidente della Regione Marco Marsilio che come giustamente dicevi è anche commissario delegato dal governo per gestire questa emergenza legata all'Ucraina Presidente ci sono tante problematiche, l'Abruzzo è pronto e accogliente ma ci sono anche poi quelle pratiche da definire avete parlato di tamponi, di vaccini, anche di cose insomma importanti, dell'arrivo di bambini che arriveranno anche senza genitori quindi c'è una grande mole di cose da gestire, ci sono anche meccanismi che avete già collaudato in altre emergenze quindi l'Abruzzo non parte certo da zero Purtroppo no perché l'Abruzzo è chiamato ad una nuova grande prova e cercheremo di affrontarla e di esserne all'altezza come è sempre accaduto anche in passato con la protezione civile abbiamo oggi riunito tutte le prefetture, le questure, le asle e diversi altri attori istituzionali ho nominato soggetto attuatore come commissario delegato per questa emergenza il direttore dell'Agenzia di Protezione Civile regionale Casinghini che in stretto coordinamento con le prefetture andrà avanti a gestire ora per ora, giorno per giorno questa emergenza abbiamo intanto stabilito di individuare dei punti filtro negli hub vaccinali negli attuali hub vaccinali, sono 8 in tutta la regione, 3 in provincia dell'Aquila l'Aquila, Sulmona e Avezzano, 2 Chiedi e Lanciano, un altro a Pescara e poi Teramo e con possibilità di aprirlo anche a Roseto se dovesse esserci necessità la difficoltà, su questi punti cercheremo di direzionare tutte le persone che stanno arrivando anche cercando di arrivare a quelli che oggi sono arrivati senza comunicazione nel senso che ci sono molti rapporti familiari noi abbiamo stimato in Abruzzo la presenza di circa 4.000 cittadini ucraini che stanno loro per primi offrendo ospitalità quindi tenendo contatti diretti a volte non passano attraverso le istituzioni quindi dovremmo anche sensibilizzare tutta questa popolazione attraverso i sindaci e le questure a regarsi appunto a denunciare la presenza di queste persone a indirizzarle verso le strutture sanitarie, questi hub vaccinali per fare il tampone e verificare la loro condizione negativi o positivi rispetto al Covid e poi proporgli e offrirgli anche il vaccino in una popolazione che peraltro ha fatto una percentuale molto bassa ad oggi di vaccinazione le prefetture stanno ovviamente mettendo a disposizione tutto il sistema dell'accoglienza dei profughi, dei richiedenti asilo sia quelli gestiti direttamente dalle prefetture che quelli gestiti dai comuni sappiamo già che questo non sarà sufficiente perché l'afflusso è molto importante se la guerra andrà avanti si stimano arrivi in tutta Italia di centinaia di migliaia di persone significa dover ospitare migliaia e migliaia nelle ipotesi peggiori anche più di 10.000 persone in tutto l'Abruzzo e quindi è chiaro che tutti speriamo che gli sforzi diplomatici di mezzo mondo per tentare di frenare questo conflitto e frenare anche l'esigenza della popolazione civile di fuggire dalle loro città possa arrivare il prima possibile possa invertire presto questa tendenza ma dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza e quindi da questo punto di vista stiamo cercando di organizzare la macchina nella maniera migliore possibile per poter reggere anche questo urto Carmine c'è qualche curiosità, qualche domanda che posso rigurare al Presidente Marsilio? Una sola domanda, tra un paio d'ore ci sarà una riunione tra le regioni esiste già un piano di ripartizione dei profughi tra le regioni? Si chiedeva il direttore, tra qualche ora ci sarà una riunione delle regioni se esiste già un piano di ripartizione dell'arrivo dei profughi come ripartirvi appunto tra le regioni? No, questo è prematuro, non c'è un piano adesso specifico per l'Ucraina però è naturale che si va secondo proporzioni e capacità di strutture già sperimentate e quindi da questo punto di vista non sappiamo oggi individuare è evidente che ci saranno regioni che avranno un maggiore impatto perché poi le regioni di confine, quelle da dove si entra per chi non ha una destinazione precisa rischiano di essere quelle che pagano il prezzo maggiore questo è evidente come in tutti i fenomeni di questa tipologia Ecco allora ringraziamo il Presidente Marco Marsilio per la sua disponibilità e Carmine se non ci sono altre domande dalla sala operativa della regione vi salutiamo, insomma è tutto, abbiamo seguito questa riunione molto importante ne daremo conto anche nel corso del Tg Sera